benvenuti a un nuovo episodio di sesso e volentieri con la dottoressa valentina puntello ginecologa e samantha anselmo esperta in educazione sessuale in questa puntata affronteremo l'argomento contraccettione quello che non sapevi di non sapere ciao a tutti e benvenuti ciao samantha e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando oggi parliamo di contraccettione dei falsi miti ma anche di tutte quelle curiosità che riguardano questo mondo allora intanto un contraccettivo è un sistema per evitare una gravidanza non desiderata il contraccettivo ideale deve essere sicuro facile da usare e da trovare economico e possibilmente una scelta condivisa tra i partner parleremo soprattutto di coppie eterosessuali e di come evitare una gravidanza ma quello che diremo riguarda le infezioni trasmissione sessuale riguarda tutti i tipi di relazioni tutte le persone oggi parliamo di contraccettivi di barriera che sono quelli più utilizzati dai giovanissimi come dicevamo nell'episodio sul petting se il pene entra in vagina anche per un tempo brevissimo questo è un rapporto a rischio gravidanza anche se è stato estratto subito e non c'è stata eiaculazione parleremo anche di metodi contraccettivi naturali e non sicuri come il coito interrotto partiamo dal preservativo detto anche profilattico o condom maschile o da pene che è il metodo più adatto per i giovanissimi perché è facile da trovare e non deve essere prescritto dal medico può essere lattice o in poliuretano deve essere conservato lontano da fonti di calore e ha una data di scadenza la sua sicurezza contraccettiva è intorno al 96 per cento per l'uso corretto vediamolo insieme si apre la confezione facendo attenzione a non danneggiarlo con le unghie si mette sul pene in erezione chiudendo tra le dita il serbatoio in modo da far uscire la bolla d'aria e srotolandolo fino alla base va indossato fin dall'inizio del rapporto infatti inserire il pene senza copertura in vagina è un rischio come dicevamo alla fine del rapporto il pene va estratto subito dopo l'eiaculazione tenendo la base del preservativo tra le dita per essere sicuri che il preservativo non scivoli e non rimanga in vagina anche questo può essere un motivo per richiedere in farmacia la pillola del giorno dopo il preservativo protegge dalle gravidanze indesiderate e dalle infezioni a trasmissione sessuale e dovrebbe essere usato anche nei rapporti orogenitali ce ne sono apposta con colori e gusti particolari per le persone con vulva può essere utilizzato l'oral dam di cui parleremo in un altro episodio non esistono motivi per non indossare il preservativo non è una scusa dire che sia una ridotta sensibilità visto che esistono preservativi ultra sottili o di nuovissimi materiali che danno un contatto molto molto simile a quello con la cute e diciamo alla gran voce chi dice di avere una ridotta sensibilità è perché non lo ha usato abbastanza da sviluppare una sensibilità specifica esigere l'utilizzo di un contraccettivo è un atto di grande rispetto verso se stessi e l'altra persona è meglio usare il preservativo con un lubrificante compatibile anche se sono già pre lubrificati e se per esempio la donna si sente lubrificata naturalmente si può usare comunque un lubrificante per scivolare meglio per aumentare le sensazioni infatti c'è un contatto tra lattice e mucosa che per alcune persone può essere anche causa di irritazione quindi perché no utilizzare un buon lubrificante compatibile qualche curiosità sul preservativo nell'antichità i preservativi erano fatti con gli intestini degli animali o di lino come per dire i primi preservativi ritardanti per lui e stimolanti per lei una curiosità sulla storia del preservativo moderno la sua invenzione è grazie agli studi sulla gomma vulcanizzata di good here che conosciamo tutti per le gomme delle auto i primi preservativi erano di gomma e risalgono a metà dell'ottocento mentre il preservativo di lattice nasce intorno a 1920 sapevate che il preservativo esiste in varie taglie se stringe troppo o se si sfila facilmente vuol dire che è la taglia sbagliata per scegliere la taglia si arrotola un metro da sarta intorno alla base del penne in erezione si misura la circonferenza che va divisa per due ed esprime la larghezza nominale del preservativo facciamo un esempio se la circonferenza è 11 centimetri la larghezza nominale è 5,5 centimetri che corrisponde a una taglia m per alcune marche di preservativi nel dubbio su quale taglia scegliere ci si può far aiutare dal farmacista prima l'hai già accennato ma esiste anche un condom per la vagina o chiamato anche condom femminile ce ne vuoi parlare si il condom femminile o condom per vagina è una membrana di lattice o poliuretano che si applica dentro la vagina con un anello che si mette dentro e uno che sporge fuori copre in parte anche la vulva ed è adatto anche quando uno dei due partner ha delle infezioni o delle irritazioni cutane come per esempio anche l'herpes genitale può essere messo poche ore prima dell'incontro sessuale quindi è un modo che permette di bypassare le manovre di inserimento e applicazione del preservativo maschile il condom femminile si compra online o si ordina in farmacia e ha un costo superiore a quello del preservativo maschile il vantaggio di questi metodi è che si comprono e si gestiscono in totale autonomia l'abbiamo detto purtroppo il costo del condom per la vagina è ancora troppo alto perché poco conosciuto quindi anche poco utilizzato spero davvero che con l'aumento dell'empowerment femminile e con l'autodeterminazione di tutte noi donne ragazze giovani donne si arrivi per il piano ad aumentare la richiesta e in qualche modo a imporci tutte quante sull'abbattimento del prezzo a cada uno quindi in realtà dipende tutto da noi potremmo anche pensare a fare qualcosa di più importante perché ce n'è veramente bisogno la regione toscana è una delle sette in italia che forniscono contraccettivi gratuiti alle persone di età inferiore ai 25 anni ma anche chi rientra nei redditi più bassi quindi fate pure una visita in consultorio per sapere se rientrate nelle possibilità della prescrizione gratuita parliamo ora del diaframma inizia a essere usato nell'america di fine ottocento ed è una cupola di silicone che copre il collo dell'utero in vagina va messa una crema che crea un ambiente in ospitale per gli espermatozoi il diaframma poi si rimuove dopo sei ore dalla fine del rapporto e la sua sicurezza contraccettiva intorno al 90 95 per cento quindi inferiore a quella del preservativo viene prescritto dal medico in una taglia personalizzata a seconda delle dimensioni del collo dell'utero e richiede un allenamento per imparare a posizionarlo correttamente e quindi una conoscenza di base dell'anatomia femminile che noi tutte dovremmo avere lo svantaggio è che non protegge dalle infezioni a trasmissione sessuale e quindi è meno adatto rispetto al preservativo maschile o femminile nel caso di rapporti occasionali il vantaggio è che non usa farmaci e che può essere applicato alcune ore prima del rapporto il diaframma andava molto di moda negli anni 60 e 70 soprattutto prima che venisse inventata la pilola contraccettiva e veniva prescritto un consultorio dalle ostetriche è meno conosciuto dai ragazzi per diversi anni e non è stato in commercio quindi insomma è normale che oggi sia ancora un qualcosa di cui si parla poco però esiste era stato visto infatti che la crema spermicida da nonoxinol 9 aumentava il rischio di trasmissione di HIV in un gruppo di sex worker al giorno d'oggi il nonoxinol non è più in commercio e si usa un'altra crema per potenziare l'effetto contraccettivo del diaframma uno dei motivi per cui non è tra i contraccettivi più usati dipende anche dal fatto che la spinta commerciale è sempre stata modesta visto che è una spesa che si ammortizza nel tempo un diaframma può durare diversi anni ed è anche un sistema rispetto ai precedenti più ecologico perché non produce rifiuti molto amato dalle femministe perché la donna lo gestisce in autonomia sperando che l'empowerment femminile possa aumentare sempre di più la consapevolezza e l'autonomia nella contraccettione per il rispetto di noi stesse cercando di infondervi tanto coraggio nell'informarvi vi salutiamo e vi vi aspettiamo la prossima puntata vi ricordo che ci potete trovare su tutte le piattaforme podcast e su instagram siamo valentina pontello underscore girecologa e prevenzione per piacere grazie a tutti ancora ciao alla prossima